Allora, pronti? Partito! Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Carmelo dice che è molto semplice, e lui queste cose le sa, tutte in aria la pista. E poi falla girar, se fai come Carmelo, non può certo sbagliar. Adesso ti hai capito, certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, insegui il ritmo e niente più. Puoi tenere la pista, e poi falla girar, se fai come Carmelo, non può certo sbagliar. Puoi tenere la pista, e poi falla girar. Se fai come Carmelo, non può certo sbagliar. Puoi tenere la pista, e poi falla girar, se fai come Carmelo, non può certo sbagliar. Grazie. Grazie.